Per contribuire ai progetti di gruppo ricerca immagine come autore è innanzitutto necessario procedere all'iscrizione al portale. Nella colonna di sinistra dell'home page, menu principale, si trova la voce Login. Da qui si accede al forum di iscrizione che richiede pochi campi obbligatori. E' necessario inserire un codice di verifica costituito da due blocchi di lettere o cifre che vanno trascritti separati da uno spazio. Una volta completata l'iscrizione si riceve nella propria casella email una comunicazione con un link di conferma che va cliccato per attivare l'account. Per ottenere il livello di accesso autore che permette di inserire immagini e creare schede ed articoli è necessario farne espressa richiesta nel gruppo Facebook Fotografi e Fotografie in Italia. Dall'home page si accede con il proprio nome, utente e password. Le immagini che si intendono condividere oppure quelle che si vogliono utilizzare come illustrazione degli articoli vanno inserite utilizzando la prima voce a sinistra nella barra che si trova in alto nella home page. In questo modo si accede all'album che raccoglie i fotografi e gli studi fotografici suddivisi per lettere iniziale della loro denominazione. Qui è disponibile la voce pannello utente che permette di gestire tutte le immagini già inviate modificando eventualmente titolo, descrizione e categoria utilizzando l'icona di modifica che vedete a destra dell'immagine. Dal pannello utente si possono caricare le immagini da inviare che non debbono superare i 2 MB di dimensione. Le misure ideali per una cdv sono comprese tra i 1000 e i 1400 pixel di altezza. Le immagini vanno inserite assegnando la categoria, per esempio M per un fotografo come Marzocchini di Livorno. Il titolo e la descrizione generica possono essere assegnate in via provvisoria perché tanto le potrete sempre modificare. Ora vado qui a inserire il fronte e il retro le due immagini. Pronte. Ed orso. A questo punto effetto il caricamento. Una volta terminato l'inserimento mi ritrovo le immagini nel pannello utente. E posso decidere di inserire tutti i dati che ritengo opportuni. Quindi posso trascrivere le informazioni che si trovano sul dorso, eventuali annotazioni, informazioni raccolte sul web. Queste immagini sono immediatamente disponibili nell'album e possono essere raggiunte e visionate dagli utenti. Rimangono, come dicevo, disponibili per l'inserimento nelle schede e negli articoli. Cosa che può essere fatta utilizzando il menu principale colonna di sinistra con la voce Crea nuovo articolo. Il campo alias non va compilato perché viene generato automaticamente. Qui posso inserire testi che ho preparato a parte che posso copiare e incollare in un altro momento. Oppure è possibile reperire informazioni sul web, per esempio per Mazzocchini nel comune di Trieste, stranamente nonostante il fotografo sia livornese. Ho trovato delle informazioni molto interessanti che vado a copiare e incollare nella mia scheda. È opportuno inserire anche la fonte con il link da cui si sono ricavate le informazioni. A questo punto il testo è completo e vado a inserire le immagini. Le immagini vanno inserite non utilizzando i pulsanti che trovate qui in alto nell'editor, ma il pulsante immagine che trovate qui sotto. Si apre una finestra di dialogo che ci mette un po' di tempo a volte a caricarsi completamente. E qui trovate tutte le cartelle in cui sono raccolte le immagini. Gli album sono contenuti nella cartella Giungalleri, che è la quarta nell'elenco. Per inserire le immagini nell'articolo è necessario e opportuno utilizzare le immagini di dettaglio, che già sono state ridotte dal software alla misura adatta per essere utilizzata nelle schede. Quindi sono dato in dettagli, fotografi, vado a cercare la M, e vado a cercare le immagini di Marzocchini appena inserite. Fronte, la scelgo e la inserisco. E poi aggiungo sempre Immagine, Giungalleri, Dettaglio, Fotografi italiani, M, Dorso, Inserisco. Può essere opportuno decidere di spaziarle usando semplicemente la tastiera e la barra spaziatrice. A questo punto abbiamo completato l'inserimento. Rimane da considerare il fatto che è importante, categorizzare il contributo che abbiamo inserito nel modo corretto. Per cui, per esempio, questa è un'immagine di Marzocchini che ha operato prevalentemente a Livorno. Quindi vado a cercare la Toscana, Livorno, e sono a posto. Poi, se voglio proprio cercarmi delle erogne, vado a descrivere esattamente il contenuto della scheda e le parole chiave che vanno inserite separate da una virgola, le parole chiave e la descrizione sono le cose che vengono più rapidamente indicizzate dai motori di ricerca. Una volta che l'articolo è stato correttamente inviato, viene sottoposto all'approvazione e alla pubblicazione da parte del webmaster. Successivamente alcuni autori riceveranno un'autorizzazione di livello superiore per poter editare, modificare ed eventualmente spostare materiali pubblicati da altri autori in maniera da creare un team di collaboratori che possa rendere più efficace tutto il lavoro. Gli articoli pubblicati risulteranno disponibili poi sotto fotografi regionali nella appropriata sezione e se nella scheda di iscrizione al portale avete inserito il vostro nome e cognome questo risulterà visibile come autore del contributo. Ricordatevi sempre anche di inserire la collezione in maniera che si sappia da dove vengono le immagini. Grazie a tutti per la collaborazione.